eccoti alcune regole che ti possono essere utili se dovesse capitare di vestire i panni del superfluo primo valuta l'ambiente in cui ti trovi controlla le tue condizioni fisiche e fai un check del tuo equipaggiamento due non cedere al panico devi ragionare in maniera lucida per fare le giuste scelte tre ricordati dove sei quali risorse hai a tua disposizione e come poterle raggiungere 4. impara ad improvvisare pensa sempre almeno a tre modi per risolvere il problema 5. concentrati sulla tua voglia di sopravvivere mai pensare di aver fatto tutto il possibile mai disperare e soprattutto mai mai arrendersi